buonasera a tutti benvenuti al 40 quattresima edizione no 41esima edizione del virtual meet up innoviamo la finanza compassione oggi per la prima volta siamo in codiretta dagli uffici di via ma con gabriele turissini perché entrambi siamo convolati qua in macchina non convolati per carità di dio non pensate male convoliati a una velocità supersonica in autostrada per arrivare in tempo e quindi partiamo subito come al solito con la sigla ok oggi la tecnologia non ci aiuta bene siamo a 99 registrati dai che adesso superiamo il 100 buonasera a tutti benvenuti buon anno intanto benvenuti ai nostri consueti webinar questa volta dico passo la parola in senso proprio fisico a gabriele e poi iniziamo subito con questo interessantissimo abbiamo superato il 100 è la prima volta che facciamo un'esperienza vis a via per cui sarà anche per voi tutto un casino stasera secondo me intanzi tutto benvenuto a ruggero che so reduce da una bella e lunghissima sciata in montagna con suo figlio e loro a lungo però prossimo anno ce la farò anch'io e non lo presento però perché andiamo col col sondaggio andiamo subito non serve presentare a ruggero anche se poi faremo un piccolo cappello nel passaggio successivo beh assolutamente allora come sempre facciamo il sondaggio all'inizio per aiutare i nostri ospiti poi nella trattazione dell'argomento vi ricordo di prendere in mano cellulare fotocamera inquadrate il quark code non vi verrà fuori se è originale o no però vi permetterà di partecipare al sondaggio invece ecco il computer desktop può scrivere slido.com e aiuto tutto può scrivere e poi vm rb un attimo prima di un attimo prima di rispondere fornite una consulenza onistica a 360 gradi clienti quindi andate dal notaio andate lo seguite in tutte le sue vicende della vita oppure una consulenza ancora basata sui rendimenti attesi in in percentuale un terzo nessuno metà o tutti i clienti ovviamente che scrive tutti i clienti non ci crediamo per definizione ma ma comunque apprezziamo se mai dopo l'intervistiamo quindi scherzo non voglio condizionare invito tutti tutti a partecipare al sondaggio come sempre dobbiamo arrivare almeno la metà quindi a 60 persone almeno 60 persone forza forza tutti prendere il cellulare inquadrare il quark code e votare ok siamo a 41 dai un piccolo sforzo ancora qualche qualche altro in modo che diamo un sondaggio che abbia un valore statistico mi sarei giocato una fisso questa risposta un terzo dei clienti tutti i clienti sono eh andati al ventun per cento nessuno diciannove metà clienti undici bene quindi siamo a 47 diamola per buona se no facciamo notte però vi invito a oddio cosa è successo vi invito tutti a votare la seconda è quanto tempo dedicata al patrimonio non finanziario dei clienti nulla una buona parte o solo occasionalmente patrimonio finanziario dei clienti cosa si intende Gabriele così intanto non finanziario si intende immobili si intende oro si intende opere d'arte e si intende criptovalute non volevo dirlo no no certo non finanziario comunque immobili e roba così criptovalute altre diavolerie di questo tipo esatto esatto ecco bene quindi solo occasionalmente il 70 per cento bene e una buona parte il 19 per nulla l'undici per cento e ammiriamo gli onesti andiamo alla terza domanda quanto del patrimonio dei vostri clienti è non finanziario come immobili oro e arte non lo so non ho mai chiesto dipende dal cliente non ho tutti i dati con tutti i clienti mantengo un rapporto di conoscenza completa degli asset o circa metà dei clienti chiaramente per coloro sono solo clienti possono rispondere del rapporto che hanno col proprio consulente no esatto è sul dipende dal cliente ma sarei giocato non con tutti ho quei dati è al 53 per cento con tutti i clienti mantengo rapporto di conoscenza completa degli asset 23 per cento bene circa metà dei clienti venti due per cento sarà bello capire se uno scrive centro cosa evidentemente di questi otto chiedono tutto eh chiedono tutto sì ok e siamo arrivati a 45 bene vi ringraziamo del sondaggio quindi anche in questo caso è avvito dipende dal cliente ok interrompiamo la condivisione passo la parola a Gabriele per la presentazione del mitico Ruggero Bertelli intanto siamo in cento ventuno che porta anche bene perché allora Ruggero eh ricorda qualcosa no perché l'altra volta tu non lo sai magari ma noi ti abbiamo fatto gli auguri per rivederti il prima possibile qua eccoci penso che l'augurio sia comune a tutte le cento persone cento venti persone che sono eh qui questa sera per cui benvenuto cento ventidue Ruggero è professore associato di economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Siena dimmi se sbaglio eh dove insegna tecnica bancaria e gestione del rischio di credito è responsabile della Edge Founder Alternative Investment Strategy Research Unit è responsabile scientifico di Exponential SRL società di consulenza e formazione poi anche vicepresidente di Prader Bank membro del comitato costitutivo di alcuni fondi chiusi e di Diamant Sica anche ovviamente svolge attività di consulenza lo sapete tutti per consule per banche società di gestione del patrimonio cassi e pensionistiche ed è apprezzato e desiderato speaker negli eventi che eh le mandanti ma anche le associazioni chiamiamole così di categoria fanno in realtà penso di aver detto no e anche del quanto di cui è l'unico detrattore di tutte le edizioni nemmeno io ho partecipato a tutte le edizioni bene e purtroppo è vero e cioè c'è siamo non orgogliosi felici di più in realtà con Ruggero mi mi unisce un'avventura riesci a mettere la prima slide ma certo imbarcato in questa avventura sono qui per te allora ok facciamo tutto schermo e poi sì così teniamo anche le altre per non andare eccolo allora non lo vedo ancora devo mettere voi lo vedete no o Bara secondo me Bernardi Bara ma eccoci qua eccolo allora vedete con Ruggero mi mi associa mi unisce mi mi ha intrigato dal primo momento quando abbiamo battezzato questa rivista ho portato la slide ma la vedrete anche dal vivo proprio il numero zero della rivista eh che venne pubblicato alla fine del 2015 o 2014 2000 no 2015 o 16 era un tentativo di rivoluzionare la specie eh effettivamente c'eravamo quasi riusciti no Ruggero e in realtà poi come al solito devono andare a posto tutti i pezzi del puzzle e non solo qualcuno per cui gli apprezzamenti che ricevevamo non ci sono poi eh non avuto riscontro su quello che era la parte commerciale ahimè purtroppo eh l'avventura almeno la mia è durata fino alla fine del all'inizio del 2020 eravamo proprio al di qua di Vaux dove stava cominciando il covid quando abbiamo deciso che era era il caso di fare una 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 chiusura eh non felice ma comunque soddisfatta di quello che avevamo fatto eravamo su dei divanetti ricordi Ruggero al Galzignano Terme però di quell'avventura rimane questo primo articolo di Ruggero che eh secondo me stasera potremmo anche riprendere eh perché eh la felicità è una questione di scelta ovvero l'investitore intelligente sta o starà benissimo anche sugli argomenti che che tratteremo questa sera tra speranze e paure è chiaro che al di là di questo cappello su Ruggero eh abbiamo vissuto un anno e tre quarti facendo conto di di partire da marzo di una marzo 2020 di una salcata dei mercati eh dettata anche dalle politiche estremamente espansive delle banche centrali che mai come questa volta sono state con un tempismo perfetto per per evitare eh le problematiche post post prima ondata del covid è chiaro che li abbiamo vissuti alla grande fino alla fine del di quest'anno già all'inizio del duemila e ventidue invece ha cominciato se volete a far arrivare delle nebbie dei fumi delle eh incertezze perché anche le banche centrali ovviamente devono pensare non soltanto a a darci stampelle o tutori ma anche a liberarsi dei tutori e farci camminare di nuovo come camminavamo prima del del covid e questo chiaramente eh ha creato un attimo di smarrimento al mercato lo sappiamo che aumenterà la volatilità dobbiamo darlo per scontato ed ecco il motivo per cui il titolo del webinar è stato scelto perché le speranze rimangono in quanto le economie continuano a avere muscoli forti però nel momento in cui togliamo il tutore a quei muscoli a quelle gambe inevitabilmente cominceranno ad arrivare eh le paure e conseguentemente tra speranze e paure la parola chiave Ruggero e così io ti passerei la palla per un primo step la parola chiave inevitabilmente sarà incertezza perché se ho tante speranze ma sono accompagnato anche da tante paure barcamenandomi lì in mezzo ciò che regna sovrana sarà l'incertezza as usual 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 rispetto agli ultimi due anni sì esatto vai Ruggero eh dai allora da parte mia come da parte mia naturalmente buonasera a tutti i 139 partecipanti a questo a questo webinar grazie naturalmente dell'introduzione delle parole di amicizia che che sempre accompagnano questi questi momenti di intervento e come al solito spero che di dare al vostro tempo valore perché non c'è nulla di peggio che sprecare il proprio tempo quindi l'obiettivo come sempre quello di essere utili e portarsi a casa qualcosa qualche idea ecco diciamo così partire da un insuccesso commerciale come quello della rivista per dei giganti della della diciamo così della relazione con il cliente per dei giganti della 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 appunto del rapporto e della propria crescita professionale non è proprio un grande esempio diciamo che la rivista con probabilmente non siamo riusciti a come dire a creare quella più commerciale che invece è sempre necessario la percezione di valore è diversa dal valore diamo per scontato che ci fosse valore nella rivista abbiamo avuto un piccolo problema di percezione del valore ma questo capita spesso no nelle nostre attività e nelle nostre cose e su questo poi magari qualche cosa vale la pena di eh vale la pena di dirlo allora tra speranze e paure vuol dire in sostanza che abbiamo a casa ci portiamo a casa il tema dell'incertezza la gestione dell'incertezza allora io voglio raccontarvi un piccolo aneddoto qualcuno di voi probabilmente avrà visto il qualche giorno fa un mio post che si faceva questa domanda come andrà lo standard and poor 500 nel 2022 e si chiama casino royale 3 questo perché perché so tre anni che puntualmente all'inizio dell'anno mi pongo la stessa domanda dando la stessa risposta e la risposta è chiaramente un gioco una una metafora riprendo il film casino royale la tortura che il cliente produce a ciascuno di noi quando chiede che cosa faranno i mercati il prossimo anno e lo fa in questo caso in questa metafora eh minacciando con la frusta le nostri le nostre alcuni alcuni dettagli che vi ricorderete insomma da dal film di 007 seduto nudo su una sedia a cui era stata tagliata la parte la seduta proprio per rendere più piacevole diciamo così la tortura ecco il tema è un po' questo no allora c'è questo consulente che di fronte alla richiesta dimmi tu cosa fai cosa farà lo standard and poor 500 nel prossimo nel prossimo anno risponde dicendo guarda tra meno 50 e più 60 cioè tra meno 50 e più 60 è interessante bel valore aggiunto dice però questa è la storia cioè se mi chiedi questo meno 50 più 60 e naturalmente il cliente fa partire la prima frustata allora il consulente un po' così nel dubbio di fronte a questa situazione dice guarda facciamo una cosa diciamo che c'è un'elevata probabilità che il rendimento sia compreso tra meno 10 e più 40 mi sembra già un contributo no ed ecco che il cliente molla la seconda frustata di quelle a questo punto urlando diciamo guarda che c'è più probabilità di guadagnare che di perdere cioè che cacchio di più da me e lui molla un'altra ennesima frustata lasciandoci un po' allora a questo punto non sapendo che cavolo fare questo mena diciamo che tiriamo fuori la moda della distribuzione no la moda distribuzione è tra il 10 e il 20 per cento tra il 10 e il 20 per cento ci sembra insomma no quindi quello ci guarda con sogghignando e ci dice puoi essere più preciso adesso e muovendo la 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 cosa e noi chiaramente a quel punto diciamo che secondo i nostri studi approfonditi siamo certi che il rendimento lo stanno neppure nel prossimo anno sarà del 15 per cento qualcosa dobbiamo pur dire no quindi finalmente contenti pensiamo di essere liberati da questa tortura il cliente ci guarda ti dice no è il dollaro come andrà capite che questo è un po' il tema ora questo posto secondo me è simpatico al di là del fatto che che è simpatico ma non è una novità ma la vera novità è questa la prima volta che l'ho messo fine 2019 quindi prima di sapere tutto e ciò e uno ci ha azzeccato casualmente questo è chiaro no ha avuto circa 20.000 visualizzazioni beh l'altro giorno ha avuto sta avendo ancora siamo arrivati a 98.570 tanta visualizzazione il che dà proprio l'idea secondo me della bisogno che c'è di trovare un qualche modo di rispondere a qualcosa che ci comincia a far paura sti mercati che sono saliti tanto e che quindi qui da un momento all'altro ci mollano qualche sonoro ceffone interessante secondo me dà l'idea dell'ansia di un'ansia che peraltro e ho avuto tanti commenti e ci sono tanti commenti che sono molto interessanti tutti ovviamente estremamente competenti a parte estremamente cortesi nei miei confronti e questo è sempre gradevole anche se come dire vi ringrazio ma al di là di questo il tema è proprio estremamente competenti dove si cerca di cogliere l'ironia no che cacchio di domanda è questa che è la prima risposta che uno dovrebbe dice guarda è una domanda inutile nel senso inutile è una domanda completamente inutile quindi non ce la facciamo perché è una domanda totalmente priva di senso però anche gabriele dice però le banche centrali economie no allora ricordiamoci che noi abbiamo un difetto perché non ci siamo abituati parliamo di politica monetaria ma ci dicomantichiamo di parlare di politica fiscale che stavolta ragazzi è presente è la prima volta in tanti anni di lavoro in cui la spesa pubblica è benedetta ce n'è tanta forte e orientata agli investimenti è il debito buono no di del famoso debito buono di draghi allora che abbia torto ragione non lo so ora poi quando si parla di draghi si comincia io preferisco ricordarmi il e continuare a pensare che sia lo stesso draghi di del whatever it takes che è la stessa cosa che ha fatto con la politica fiscale perfetto no se ci pensate un momento prima quando era in banca centrale ha fatto la politica monetaria poi se è venuto l'altra parte ha fatto la politica fiscale fantastico cioè meglio di così uno due no di gioco di diritto e di rovescio ricordiamoci quindi di non dimenticare nel nostro nelle nostre pensate che questo malato a cui viene tolta la cura o magari sta bene capite qual è il difetto che noi abbiamo nel valutare queste cose no o magari sta bene cioè tolgo la cura e quello sta bene è uscito all'ospedale ora sono esempi che mi danno un po fastidio ma non importa è uscito all'ospedale le gambe lo fanno camminare tu gli togli il tutore e quello cammina miseria cioè quello sta in piedi o dice magari però un po vacilla scusa gli togli il tutore un momentino vacillerà se poi arriva il moltiplicatore del reddito chiaramente altro che vacilla quello a questo punto è perfetto no politica monetaria si ritira politica fiscale rimane forte genera reddito e genera reddito genera crescita crescita di tassi di interesse sia la benvenuta ma insomma non vogliamo vedere questi tassi a livello euro positivi io sì sono tanto e tanto tempo che dico ragazzi finché non tornano positivi c'è qualcosa che non va torneranno positivi oddio mica tanto presto però allora questa è una battuta per dire tra speranze e paure tra speranze e paure dobbiamo gestire l'incertezza questo è il tema no la gestione dell'incertezza perché l'incertezza è il nostro mestiere e noi gestiamo l'incertezza ed è normale anche qui dominanza della negatività tutti voi sapete di cosa sto parlando ve lo ricordo ve lo ricordo solo un momento incertezza non vuol dire roba negativa incertezza vuol dire incertezza negativa è positiva cioè non è che incertezza è negativo e chi l'ha detto incertezza è anche quando faccio il grattevinci c'ho l'incertezza oh il grattevinci normalmente mi fa perdere ma ogni tanto magari mi fa pure guadagnare è l'incertezza no allora diciamo quindi che l'incertezza è negativo positivo qual è il nostro difetto il nostro difetto è che di fronte al titolo i tassi si Powell pensa che i tassi debbano salire tutti pensiamo che sia una notizia negativa e invece perché non pensare che sia invece positiva no molto semplice l'economia respira da sola va avanti da sola quindi va bene è però l'inflazione l'inflazione che sale e l'inflazione sale dopo che è salita pure scende non è che debba salire per forza soprattutto se sale per motivi per i motivi che noi che noi ben conosciamo non voglio essere per forza positivo anche se dire questa cosa oggi è un po' pericoloso guarda perdiamo perdiamo partecipanti poi dopo voglio essere positivo a quello che si dice perché ora essere positivo è diventato negativo e cominciamo a perdere tutta la cosa comunque la dominanza della negatività è tendenzialmente lo sapete il fatto che quando c'è ad avere paura di qualcosa noi subito abbiamo paura no le minacce ci spaventano anche se sono sfocate appena accennate appena evocate già abbiamo paura le opportunità le cogliamo le vediamo solo se sono perfettamente a fuoco a differenza mica da poco eh tutte le volte che guardiamo le opportunità per vederle abbiamo bisogno che siano nitide cioè te le devi proprio disegnare precise vedere nel dettaglio le minacce invece basta evocare già ti sei spaventato se noi andiamo avanti in questo modo perdiamo opportunità bene quante opportunità hanno perso i vostri clienti eh o qualcuno che in questo caso evidentemente magari è presente come investitore tra il 2019 ed oggi perché è perché perché mica è possibile perché perché è difficile perché non ce la faremo perché tutta una serie di di affari che si sono invece rivelati piuttosto sbagliati eh complessivamente e comunque non partiamo da marzo del 2020 abbiamo una storia più lunga che possiamo che possiamo marzo del 2020 poi è un episodio a questo punto eh per i mercati sicuramente quindi diciamo che possiamo ragionare in termini un pochino diversi quando è forte l'incertezza e qui è il punto voi direte ma che c'entrano le cose che ci siamo chiesti all'inizio e c'entrano c'entrano quando è forte l'incertezza più è forte l'incertezza più il ruolo guida di chi sa guardare lontano viene fuori con tutta la sua forza è un'occasione importante più è forte l'incertezza più abbiamo le opportunità di guidare di portare avanti il nostro cliente nella giusta direzione e se qualcuno di voi mi dice ma io non so qual è la giusta direzione beh abbiamo un problema Houston non c'è valore se non c'è valore e non c'è valore voi dire ma io mica posso immaginare come andranno i mercati nel 2022 infatti è proprio quello che non bisogna fare escludere siccome questo è impossibile da prevedere o meglio io risponderei per l'ennesima volta guardiamo la moda della distribuzione e diciamo che c'è elevata probabilità tra meno 10 più 40 di portare a casa del rendimento però c'è anche il meno 10 dice poi potrebbe essere meno 20 e potrebbe essere meno 20 e sarà quello che gli pare non è molto importante questo no è irrilevante irrilevante perché se lo riteniamo irrilevante allora possiamo guidare se lo riteniamo rilevante ecco che dobbiamo morire di incertezza perché che ne so io come andranno i mercati nel 2022 non ne ho la più palida idea non avendo la più palida idea sono bloccato e aspetto aspetto gli eventi aspetto che qualcosa che qualcosa accada che è un errore grande lo sapete noi non possiamo far aspettare i clienti investitori i clienti investitori devono investire è sempre il momento giusto di investire e devi investire come sempre con prudenza eccetera 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 sapendo bene le cose che voi vi insegnate quindi non ho bisogno di ricordarle incertezza quindi è positivo negativo è incertezza dobbiamo quindi avere una impostazione di guida di investimento di protezione crescita del patrimonio che è indipendente da questa risposta questa risposta non ci interessa ci interessa invece qualcosa di molto diverso che è quello di raggiungere un obiettivo ben più alto dietro la parola le parole che sono state usate prima sulla finanziario non finanziario approccio olistico eccetera eccetera c'è la gestione dell'incertezza in sostanza lì c'è la gestione dell'incertezza noi dobbiamo ottenere i nostri obiettivi indipendentemente da quello che fanno mercato vi dico il discorso è questo senti ruggiero a questo proposito a parte mi viene in mente una paginetta di del libro di morgan house la psicologia dei sondi perché per per toglierci qualche dubbio e qualche incertezza c'è un passato che secondo me è particolarmente interessante e nelle ultime pagine del libro proprio dice la mia strategia di investimento non consiste nel selezionare il settore giusto nel prevedere la prossima recessione è composta in realtà da un tasso elevato di risparmio da tanta pazienza e ottimismo e da una convinzione per cui non l'incertezza che l'economia globale creerà valore nei prossimi decenni dedicare praticamente tutti gli sforzi a riflettere su queste tre cose e in particolare le prime due è quello che ci serve per esercitare quello che può essere il controllo controllo che secondo me si aggancia un altro concetto fondamentale che è quello della competenza che dovrebbe caratterizzare consulente e soprattutto quello dell'esperienza che deriva da anni di frequentazione di questo tipo di mercati che sono governati dall'incertezza beh bisogna bisogna sorridere no nel senso eh quando il cliente preoccupato noi siamo tranquilli e sorridenti no lo lo skipper che di fronte alla alla che 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 pilota che comanda e quando il mare il mare salsa sorride perché si vedono le differenze insomma non c'è nulla di nuovo ecco il tema è un po quello che non c'è io l'unica novità che vedo in questo momento è senz'altro il tema della 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 delle politiche fiscali non bisogna dimenticarle perché sono senz'altro un elemento al quale noi siamo poco poco abituati per cui andiamo a vedere cosa dice Powell e ci dimentichiamo che eh che nel frattempo tra Verona e Padova eh credo che sia a buona eh in una in una buona avanzamento lavori l'alta velocità che è altrettanto importante del tasso di interesse cioè vuol dire lì eh c'è qualcosa che ci riguarda da vicino a noi investitori che sono prevalentemente che siamo prevalentemente investitori in azioni no perché perché lì c'è valore quindi per noi lì c'è valore c'è volatilità e c'è valore se c'è valore lì dobbiamo più guardare a queste cose piuttosto che a quello che fa eh dice Powell che genera volatilità però la volatilità no giustamente diceva Gabriele alla quale bisogna essere abituati ci sarà maggiore volatilità ma sai in un orizzonte temporale corretto la volatilità non è altro che opportunità mi spaventa per niente cioè va bene non no i mercati oscillano tentendo non traballano mentre salgono nel tempo oscilleranno un po' di più traballeranno un po' di più e saliranno nel tempo e quindi alla fine eh il il tema il tema cambia poco no in in termini di a proposito del libro la psicologia dei soldi in questo momento libro molto bello in questo momento sta senendo alto lo schermo del computer del mio computer proprio qua sotto dopo lo faccio vedere è vero l'ho messo sotto il computer perché così sta è incredibile ma è così e quindi diciamo l'ho usato ma in questo momento lo sto usando in modo un po' improprio comunque sostiene ecco sostiene sostiene in questo momento là è alla base delle tue convinzioni veramente è buffa questa cosa lo sto guardando adesso è proprio qui dietro va bene ti faccio far una risata ti leggo il uno scambio di di whatsapp con un cliente oggi pomeriggio mentre stavo aspettando di fare la visita in neurologia a verona tanto possiamo dire a tutti non c'è problema allora il cliente scrive dai un occhio quando torni domani in ufficio dal primo dell'anno abbiamo perso 13 mila euro ti chiedo di dare una vista per favore io sono in riunione ci sentiamo anche domani se vuoi una vista ma diamo l'assieme di sicuro i portafogli sapi lo vanno avanti da soli ma se serve gli diamo un ricostituente risposta bom dia diamogli un viagra allora chiaramente colto nel vivo dopo la vista ci pensiamo è un bel casino però per dirti come come stanno vivendo poi è quello che dicevi tu giustamente prima eh l'esperienza la il sorriso lo skipper che anche con il mare grosso si mette eh mette il cliente a suo agio mette il 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 passeggero di bordo eh a suo agio diventa un fondamentale perché perché inevitabilmente i mercati come hai detto tu oscillano traballano anche se come abbiamo scritto nel tempo poi tendono a crescere ma io volevo focalizzare eh più che altro su quello che dovremmo estrapolare dal nostro know how dal nostra da tutto quello che c'è ci ci portiamo dietro nella nostra professione come farlo diventare davvero una tu per nel rapporto col cliente allora innanzitutto dobbiamo dobbiamo definire bene qual è la missione e io a questo punto l'ho abbastanza focalizzata no cosa cosa deve fare un consulente finanziario deve fare una roba tosta difficile alta perché se c'è valore c'è ovviamente intermediazione c'è capacità di intermediare se non c'è valore non è sostenibile oggi si parla tanto della sostenibilità nostra professione è sostenibile solo se genera valore se non genera valore per il cliente finale e questo non è percepito purtroppo non è sostenibile come la nostra rivista che evidentemente sostenibile non era era bella ma non sostenibile e vabbè a meno di non metterci soldi all'infinito nella nella cosa ma a parte questo allora il tema qual è qual è la nostra missione beh la missione ha a che fare con il benessere e il benessere è un concetto molto 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 largo alto rispetto al rendimento rispetto alla crescita del patrimonio il tema è il tema del benessere un benessere che deve essere distribuito in tutto l'arco temporale della nostra vita vita natural durante che è un altro bel tema non compreso no vita natural durante cavolo vuol dire vuol dire boh no aspetta vuol dire che l'aspettativa di vita è piuttosto è piuttosto alta non siamo immortali ma insomma ragionevolmente a meno che nostro signore e ogni tanto purtroppo lo fa non ci mette la mano e però diciamo le aspettative di vita sono piuttosto piuttosto lunghe e quindi distribuzione del benessere vita natural durante e già questo diventa complesso perché c'è una variabile in più che noi dobbiamo saper gestire evidentemente è un altro tipo di un'altra fonte di incertezza non la tipica incertezza della vita umana che forse è un po più importante delle incertezze della volatilità dei mercati e da un altro punto di vista è questa distribuzione per in tutto l'arco della 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 vita vita natural durante deve avvenire con un'ottica un po' particolare che un'ottica globale olistica come si direbbe come si direbbe oggi oggi in un'ottica che ha tre livelli generazionale transgenerazionale e intergenerazionale che che vuol dire in estrema sintesi tanto lo intuite rapidamente generazionale vuol dire che riguarda la mia generazione quindi me la mia famiglia ma transgenerazionale vuol dire che riguarda i miei figli mentre sono ancora in vita e io sono in vita che riguarda i miei genitori mentre sono ancora in vita e naturalmente io purtroppo sono una già in una fase del ciclo vitale dove questo problema se non così lo vogliamo chiamare non c'è più a parte che a me mia mamma problemi poverino non me l'ha mai data perché era perfettamente autonoma fino a tre mesi prima di di andar via e diciamo transgenerazionale e intergenerazionale quindi intergenerazionale vuol dire che va a riguardare le generazioni di quando io non ci sarò più insomma una missione non male no c'è altro che come vanno i mercati l'anno prossimo che cavolo me ne importa di come vanno i mercati l'anno prossimo il tema è quali sono le conseguenze sul mio benessere delle scelte che faccio oggi che ho fatto ieri e che ho fatto dieci anni fa allora apriamo qualche sfumante perché io sono convinto che qualcuno di voi dieci anni fa ha fatto fare delle scelte fantastiche al cliente non ce le dimentichiamo perché sono belle nel lungo termine si vedono delle cose che poi purtroppo si perdono con l'ottica di breve periodo e io sono convinto che ci siano delle cose su cui si può festeggiare insieme al cliente ma in un'ottica di lungo periodo non festeggiamo come è andato l'ultimo anno no sì vabbè va bene facciamolo però non è una gran festa anche perché l'anno dopo ti puoi portar via tutto quindi c'è la festa capito non è che proprio sia una gran festa quindi non lo so però invece se io dieci anni fa e io sono convinto che molti di voi possano tirar fuori questi esempi ho fatto fare delle scelte che puntano al benessere dieci anni e che oggi riesco a vedere i cui i cui risultati riesco a vedere beh insomma è un po come l'allenatore che mi porta a fare la maratona di new york due anni prima tre anni prima ha cominciato a prepararmi dopo due tre anni vado a fare la maratona la finisco e sono contento lui mi guarda sorridente mi dice vedi che è successo e tu dici e cavo col metodo e con la disciplina si ottengono dei risultati eccezionali certo e quindi qual è oggi la maratona che vuoi fare nei prossimi tre anni cinque anni dieci anni cento anni perché questo è il mio mestiere il mio mestiere è questo tutto il resto è prodotto e va bene voglio dire per carità c'è tanto c'è tanto del prodotto ma però non possiamo perderci qui ecco quindi tra speranze e paure cosa c'è ma c'è il benessere ecco questo è un po è un po il punto no puntare al a questo concetto vero scusa se ti interrompo ma sai cosa mi piace tanto di questo discorso che questo discorso avviene un momento storico in cui i mercati sono da dodici anni che crescono e che danno risultati quindi sarebbe anche molto facile riprissi la bocca con i risultati fatti invece invece un discorso lungimirante che sarebbe da fare i clienti o si farà ai clienti nei momenti di difficoltà dei mercati perché si dice non guardare in difficoltà di oggi stiamo guardando al tuo benessere di lungo periodo però in realtà oggi assume ancora maggior sapore perché lo si dice in un momento in cui i mercati in realtà le soddisfazioni le hanno date e quindi potersi estrarre dalla dal gioco del rendimento per per parlare più del tra virgolette del benessere è un gran valore io non solo se ti interrompo aggiungerei una cosa i mercati sono sicuramente andati molto bene ma il mio portafoglio comandato ma non perché i prodotti no non c'entra niente lo sapete meglio lo sapete cosa dove voglio andare a parare no cioè il fatto che i mercati sono dieci anni che crescono non corrisponde esattamente col fatto che il mio portafoglio cresca da dieci anni eh non è assolutamente detto che sia così purtroppo e qui basta attaccare un po' di money weight confrontarlo col time weight e si vedono delle cose che sono secondo me piuttosto interessanti dal punto di vista proprio del dicevi cosa c'è mancato pensaci un momento no cioè questo questi mercati hanno fatto il x per cento a medio annuo e noi abbiamo fatto il i costi non c'entra un cavolo i costi qui sono i tuoi comportamenti andiamo a vedere un po' a vedere no quando si poteva fare valore che cosa abbiamo fatto perché è lì il punto il comportamento che produce una differenza tra il rendimento vero che è quello mio l'unico rendimento che conta è il rendimento finto che è quello del del come mi ricordava daniele dice mi ricordo quando tu dicesti l'unica persona che ha visto questi rendimenti è uno che ha comprato lo standard in p500 è volato eh è andato in missione sulla luna è ritornato dopo quindici anni ha detto cavolo quanto ho guadagnato se fosse rimasto sulla terra te lo scordavi quella ho strappolato dal dall'ultimo report di JP Morgan che è appena uscito perché sono i dati al 31 dicembre 2021 e lo fa con gli investitori americani cioè non con gli investitori eh italiani che se fai vedere la slide dopo dovrebbero molto peggio dovrebbero confrontarsi con un mercato che è completamente diverso perché se noi guardiamo cosa è successo dal 2007 a oggi sul mercato italiano siamo sotto ancora del trenta per cento ma l'investitore americano si confronta con una performance del duecentocinquanta e come vediamo da questa slide che ormai è storica no di JP Morgan si vede come a fronte di uno standard in pool che ha reso il sette e mezzo per cento il cittadino americano alla alla Elon Musk o alla Bezos che è andato a farsi un viaggio tra le stelle e invece si ritrova con il rendimento medio che è circa quello dell'inflazione cioè un due virgola nove per cento e torno a dire sul mercato americano che è stato stra premiato da un punto di vista delle performance azionarie per dire quanto è vero ciò che dice e non solo perché loro hanno investito sui bond europei che hanno guadagnato anche sulle frette su cambi sì sì è vero che era difficile sbagliare ma eppure 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 questo il dato no e allora riflettere su questo punto è ma quale sarebbe stata la soluzione parlare d'altro cioè capite cosa voglio dire la soluzione cioè come avrei fatto come potevo cogliere queste opportunità parlando d'altro parlando e ponendosi degli obiettivi che non sono quelli di fare rendimento sul mercato perché se tu ti poni come obiettivo quello di fare rendimento sul mercato cioè purtroppo ci sono una serie di fattori che ti condizionano se invece parliamo d'altro e avessimo pensato dieci anni fa o quando è vent'anni fa al tuo benessere oggi potremo festeggiare rendimenti ma non li abbiamo cercati abbiamo cercato il tuo benessere e una pianificazione di lungo termine e con questo abbiamo ottenuto il i risultati e questo è un paradosso ma è assolutamente così è un po' come dire vado su marte no è la stessa cosa invece di stare sul mercato a cercare rendimento parlo di benessere transgenerazionale ma tu sei impazzito no 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 sto facendo una cosa per te per farti fare rendimento ma non ci pensare ne parliamo tra tra dodici anni capite come l'allenatore della maratona che ti comincia a far fare gli squat ma che c'entrano 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 intanto falli poi ne riparliamo quando vincere quando vincerai no ma quando chiuderai la maratona New York intanto falli 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 è un altro aspetto c'è un altro aspetto importante che poi è il comportamento del cliente no perché se il cliente abituato a valutare solo la performance del lavoro che facciamo e manda i messaggi stiamo perdendo 13 mila euro dopo dopo un anno che magari ne ha giorni e invece di essere felice di aver guadagnato 83 mila euro 87 mila euro infatti vedi che poi si è messo anche lui a discutere di viagra che è molto più interessante infatti è proprio è proprio esattamente così no questa questa però vale sempre il solito ragionamento sempre per prendere gli esempi dalla da ciò che voi conoscete no dall'atteggiamento dal comportamento del cliente se il cliente scrive a Gabriele abbiamo perso 13 mila euro sapete di chi è la colpa io non ho dubbi di Gabriele non ho dubbi cioè non è che non è che c'è un dubbio è cioè quel messaggio non c'è niente da fare Gabriele abbi pazienza ma è colpa tua non può che essere colpa tua di chi vuoi che sia la colpa di chi vuoi che sia la colpa non può che essere colpa tua perché lui non avrebbe dovuto scrivere quella roba e invece l'ha scritta e questo vuol dire che è un refrain poi no lo scrivesse solo una volta però capito il il punto il punto è esattamente una risata su questo secco del ruggiero che l'anno scorso novembre dicembre partiva dal presupposto stiamo perdendo tredici mila euro dal massimo raggiunto il mese no perché così poi no anche qui è chiaro che questo questo partire dai massimi no non lo sappiamo che è tutto un aspetto mentale di di reference point in seguito quello che diceva eh Roberto Anselmini che ribadeva penso di di cogliere l'essenza del pensiero eh come è vero eh noi cerchiamo di di passare concetti anche importanti ma alla fine della fiera il cliente ci arriva e ci chiede va bene però la performance e Daniele si è mi che mi fa perdere il filo no Anselmini ha ragione in molti casi il rapporto col cliente viene attratto dal discorso performance viene genera una un qualche come posso dire una qualche corrispondenza letale ecco mettiamola così ma sì guarda io mi ricordo ho usato ogni tanto con i clienti in particolare in qualche serata così io Tarzan to Jane no cioè il tema è che il cliente Tarzan alla fine è difficile che dica ti amo a Jane cioè bisogna averne il linguaggio bisogna bisogna percepirlo no quindi se Jane e Tarzan si incontrano come nel nel film di Disney e c'è Jane che gli parla lui poverino cioè è è a livello io Tarzan to Jane e poi è un è un bravo uomo è capace di amare ma farsi dire ti amo è un'altra cosa no cioè è un percorso quindi è chiaro che se se il mio cliente alla fine ha bisogno di fare determinate domande o fa determinate osservazioni è perché noi non gli abbiamo fatto fare data l'opportunità di dire qualcosa di diverso e quindi lui alla fine dice quello che sa dire poverino o volete che stia zitto quello non sta zitto a un certo punto no ricordiamoci che ogni vuoto che noi lasciamo ogni vuoto che noi lasciamo lui lo riempie con quello che gli fa comodo o quello che gli viene in mente quindi se noi non riempiamo i vuoti lui riempie a modo suo poi dopo una volta che ha riempito a modo suo noi dobbiamo dire no però sai non è che quello che non contano i 13 mila euro intanto lui ce l'ha messi lì ed emotivamente ha sofferto poi dopo noi recuperiamo però al massimo pareggiamo difficile riuscire a vincere dopo che lui ha sentito questo tipo di sofferenza è un paradosso veramente un paradosso che dopo aver goduto delle performance di lungo termine dei porta ammesso di averlo fatto perché questo è il punto no si sarà reso conto il cliente che ha goduto di queste performance di lungo termine dopo aver goduto è come aver fatto non so cinque giorni di sci col sole pieno e l'ultimo giorno la neve è un po così oppure nevica ma quando nevica tu devi sorridere se sei uno sciatore perché senza neve è dura è quindi quando l'altro giorno non mi ricordo quando è successo è venuta la neve io avevo sciato col sole il giorno prima è arrivata la neve ma io ero contento come una pasqua dice ma sia lasciare no perché non si vedeva un cavolo nevicava ma ero contento perché perché naturalmente il giorno dopo è il giorno dopo il giorno dopo dopo due o tre giorni non lo so sta di fatto che con quella neve io già mi prefiguravo quello che avrei fatto nei giorni successivi è un paradosso che io mi attacchi a quel giorno e dico accidenti adesso da inizio giornata sto perdendo il il costo dello ski pass stagionare o ma che ragazzo è pensa quanto te lo sei goduto prima no la neve è fondamentale quindi è un paradosso che ora da inizio anno siamo preoccupati ma preoccupati di che eh cioè con tutto quello che con tutto il sole che abbiamo preso è la voglia allora la domanda che ti faccio io è proprio allora fammi cambiare passo quali possono essere le strade per cambiare passo ah per cambiare passo beh per cambiare passo è veramente parlare d'altro cioè non dobbiamo proprio assolutamente cadere in questo tipo di trappola io credo che proprio noi avremmo bisogno ma proprio per puro esercizio di eh evitare di pensare a performance guardare performance dobbiamo parlare di altro quindi dobbiamo andare dal dal nostro anche perché ora è perfetto noi inizio anno ci si incontra e di che si parla del futuro dei mercati no no si parla di te si parla del perché c'è io sono convinto che in questo momento dopo tutta la crisi della pandemia i valori guardate che in questo momento la gente si sta facendo le domande eh dal punto di vista dei valori di quello che viene prima di quello che avrebbe potuto fare ma non delle performance sull'equilibrio della famiglia su ci si fa tanti pensieri eh pensate a al tema valore degli immobili no quante cose sono state dette smart working o smart work cioè ci sono tutta una serie di pensieri che hanno un valore molto più forte di quello che riguarda i mercati per cui per me il cambio di passo è semplicemente quello di parlare d'altro ma non d'altro che non interessa al cliente parlare di quello che interessa al cliente e dimenticarsi se proprio dobbiamo parlare di mercati lo facciamo in orizzonte temporale lungo cioè manco sotto tortura gli faccio vedere il portafoglio l'andamento dell'ultimo anno e faccio vedere l'andamento del rolling degli ultimi rolling cinque anni da da inizio 1963 che ne so io non ti devi spaventare il messaggio qual è se tu guardi la cosa sbagliata ti spaventi ma non e corri il rischio di non guardare quella giusta io ti faccio vedere quella giusta e quella giusta è l'assicurante sei tranquillo ora sì beh parliamo d'altro questo è il ragionamento io torno sul cambio di passo però però al di là di questo trasportare il cliente su un altro diciamo su un piano parallelo rispetto a quello delle performance a me intriga interessa perché ho sempre cercato poi di declinarlo nella maniera magari artigianale come potevo farlo io di questo approccio olistico alla al rapporto col cliente che tu eh in qualche maniera comunque hai hai ribadito anche nell'ultimo libro scritto nella collina dei ciliegi quanto è importante che il rapporto trovi una tessitura solida su diversi piani no ecco quello mi piaceva se puntualizzavi un attimo allora e il tema ricade nel solito grande grandissimo argomento della pianificazione finanziaria ed è sicuramente un tema un tema chiave che non bisogna mai mollare mai dimenticare quello è il nostro è il nostro contesto il nostro contesto nel quale sostanzialmente costruire una serie di elementi eh elementi veramente forti che riguardano eh che riguardano le motivazioni perché ho detto parliamo di missione perché ehm pensate alle sei missioni del PNRR no le sei missioni certo no bene e noi che missione abbiamo perché l'industria l'industria del risparmio investito lì non è non è non è non è chiamata invece abbiamo una missione importante dobbiamo far cogliere all'investitore le opportunità che si nascondono dietro questo questo contesto che non è banale no quindi il 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 tema del cambio di passo è ragioniamo e infilando dentro elementi nuovi no questi elementi nuovi è la missione di dar valore al tuo patrimonio al dal valore al tuo al tuo patrimonio inteso alla tua ricchezza al tuo patrimonio fare benessere cercando ricogliere le opportunità che derivano da questo da questo da questo da questo PNRR o da altri elementi di questo di questo tipo perché altrimenti chi ne trarrà giovamento certamente gli imprenditori certamente tutti coloro i quali organizzano fattori produttivi e io investitore che faccio no dove dov'è che riesco a cogliere le mie opportunità ecco per riuscire a far questo dobbiamo necessariamente ragionare di qui al 2030 cioè dobbiamo per forza andare in orizzonti temporali che sono che sono di periodo di periodo più lungo e io credo che questo a questo punto di vista concretamente sfruttare rafforzare la contabilità mentale del cliente cercare di individuare quello che si chiama il goal based investing cioè dobbiamo riuscire a portarci in questa direzione il goal based investing non è altro che la missione del PNRR tradotta in dice che cosa cosa è il PNRR soldi no non sono soldi sono obiettivi è una cosa diversa perché senza obiettivi non ci sono soldi e questo è il punto cioè non è che sono soldi ci hanno dato dei soldi no non ci hanno dato dei soldi abbiamo ci siamo dati degli obiettivi per raggiungere i quali servono dei soldi benissimo se togli gli obiettivi vengono meno i soldi e per noi è la stessa cosa uguale ti poni degli obiettivi e allora arrivano i soldi se togli gli obiettivi i soldi perdono di valore e chissà dove cavolo li va a investire magari in qualche diavoleria tipo no sto scherzando io torno un attimo sulla scusa sono tedioso magari no no dai dai e a un certo punto il concetto cioè la consulenza deve fare un salto di qualità no cioè questo è la sintesi e questa no in realtà leggevo prima quello che scriveva Carmine noi siamo tante volte noi affascinati dal fatto di far vedere ai clienti quanto siamo bravi no cioè vogliamo narcisisticamente proporci come quelli che fanno le performance dopo in realtà io almeno per quanto mi riguarda cerco di dire in realtà il mercato che fa le performance non siamo noi non sono io il mercato te le restituisce perché l'economia cresce per cui diventa quasi ovvio che il rendimento tu ce l'abbia perché il tempo questo fa però quando tu dici e dopo parleremo anche del compenso ma quello che mi interessa è capire lo step che c'è tra il consulente e quello che tu definisci super consulente cioè quello che diventa il consulente se vuoi indispensabile no eh sì ecco il super consulente è quel personaggio che ha quella missione che vi dicevo del benessere distribuito insomma olistico quello è il super consulente in realtà il super consulente diventa indispensabile come dice giustamente Gabriele e allora se noi diventiamo un consulente sostituibile ecco che arriva money farm fa la pubblicità so se l'avete vista su rai play io l'ho vista su rai news 24 non so se qualcuno l'ha vista forse sono stato l'unico a vederla o la non però è molto interessante perché è la domanda che si pone l'investitore a inizio dell'anno è come devo investire i miei soldi e allora quell'altro risponde non come con chi ah cavolo mica è sbagliata sta cosa con chi non come chiediti con chi naturalmente money farm ha una sua soluzione a questo problema e probabilmente ha trovato tutti i soldi per fare la pubblicità perché ben sappiamo in che contesto è entrato però non importa è un esempio di domanda no con chi io di chi ho bisogno per fare le scelte giuste ho bisogno del super consulente cioè di colui il quale ovviamente focalizzandosi sui miei interessi riesce a darmi le soluzioni di investimento in un contesto ampio quindi questa super consulenza come si come piace chiamarla a me piace pensare che su alcuni dei vostri target di clienti sia sia normalità cioè sono in qualche modo triste a pensare che ci sia qualche cliente che avrebbe bisogno di un super consulente molti di voi sarebbero in grado di fare il super consulente e poi vi parla dei 13 mila euro sempre per fare l'esempio ormai per girare il coltello della piaga capite ma no dai adesso tu giro il coltello della piaga sono a posto oggi proprio no ma capite allora il tema è un po quello ce l'ha il super consulente no peccato cioè capite ma chi è che ti serve a te cioè chi è che ti risolvi i tuoi problemi no e questo il punto quindi secondo me questo salto di qualità a parte che è il momento ideale per farlo e comunque se non lo facciamo il mercato ce lo fa fare eh cioè nel senso che la pubblicità di money farm è una forse la punta dell'iceberg però dobbiamo dobbiamo tenere presente che intorno a noi ci sono grandi temi di super consulenza uno di questi ma non lo apriamo perché so che mi viene l'orticaria è il tema della sostenibilità ISG io ho uno slogan preciso ISG non è un prodotto ma un comportamento e se andiamo sul comportamento ragazzi ecco qua che il super consulente si afferma prodotti assolutamente no non c'entra nulla non c'entra nulla poi sì abbiamo bisogno degli strumenti ma ti rendete conto di che cosa vuol dire i benchmark e cioè uno se uno guarda ste robe poi dopo gli si drizzano i capelli se così vogliamo dire capite qual è il tema cioè ci sono veramente tanti temi di super consulenza pensate alla sostenibilità ma è un tema di super consulenza non non mescoliamo sta roba con la performance dei prodotti no gli studi che che anche gli accademici ne fanno perché quello migliora il rapporto rischio rendimento finché dura migliora poi quando quando cambia non dura non dura più e non migliora più dai siamo troppo da troppi anni facciamo sto mestiere per non renderci conto che che questo sarà vero finché è vero e poi a un certo punto non sarà più vero per poi riessere vero dopo ma in realtà il tema è un tema di super consulenza guardate che se guardate la missione che viene data dal regolamento eh dal regolamento europeo al consulente è bellissima cioè io quando l'ho letta mi sono mi sono venuti brividi cioè il consulente ha il ruolo di spiegare al cliente cosa rischia se non investe gli esgi ma pazzesco pensa pensateci un momento eh non promuovo gli esgi no 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 io non promuovo gli esgi io spiego al cliente che cosa rischia se non investe gli esgi che è una cosa completamente diversa eh un ruolo completamente diverso non è banale capite perché è un po' come io uso sta sta metafora mi piace tanto forse non piace a tutti cioè cliente ma preferisci costruire la casa sulla sabbia o sulla roccia eccolo sulla roccia ovviamente benissimo e vieni che costruiamo sta casa cioè capite qual è il punto perché se tu me la costruisci sulla sabbia che cosa rischio a non a costruire una casa sulla sabbia mica la mia per caso è costruita sulla sabbia super consulente beh andiamoci a dare un'occhiata oppure chiamiamo Uretec una volta c'era la pubblica non so se l'avete ma io a me le pubblicità piacciono tantissimo Uretec è quella roba che ti infili infili la questa 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 roba nelle fondamenta e la casa diventa più più robusta ecco insomma abbiamo bisogno di qualcosa del genere capite il senso ma è una missione splendida cioè spiego al cliente che cosa rischia a non investire gli esgi non quali sono le opportunità di investire gli esgi è una cosa completamente diversa proprio diversa no è come dire spiegare al cliente che cosa rischia se compra un oggi un un bund trentennale cioè cosa rischia se compra un bund trentennale dice guarda adesso te lo spiego cioè capito è altro che compra le azioni perché lui poi arriverà e quindi che compro adesso te lo spiego capito perché qualun uno dice qua arriva la marea che che fa alzare i tassi di tutti e tu qualunque cosa hai comprato perdi non so se mi sono spiegato a parte i famosi fondi flessibili con duration che diventa negativa quando è opportuno che diventi negativa ma questo ovviamente ben sappiamo che trattasi di forse di un eccesso di fiducia in una capacità di però con Daniele ha sicuramente il modello quantitativo risponde a questa esigenza quindi non mi permetto ho lanciato ho lanciato come dire il io ero talmente negativo sui tassi di interesse che ho incominciato a vendere il moon future quando era non sei l'unico tranquillo non sei l'unico però se quella hai venduta hai comprato azioni dai tutto sommato non è poi andata così male senti Ruggero diciamo l'ultimo l'ultimo step dopo a limite riprendiamo dei passaggi però la cosa importante a questo punto al di là di quello che deve essere un nuovo ruolo il nuovo super consulente eccetera la cosa importante è capire come cioè prima perché perché far capire perché il consulente per questo deve essere pagato come deve essere pagato e quali possono essere gli input che possiamo utilizzare per far capire quanto sia importante che un lavoro debba essere remunerato beh questo è un tema abbastanza abbastanza complicato naturalmente e su quale si possono fare delle riflessioni di tipo di tipo generale allora purtroppo lo sappiamo insomma l'industria ha costruito un meccanismo per cui il consulente visto come quello che prende pezzi di performance no? cioè potevo guadagnare 10 e grazie al tuo contributo adesso ho guadagnato 8 dici perché due me le sono preso io e vabbè non è che proprio suona benissimo soprattutto quando potevo fare 0 invece ho fatto meno 2 perché? perché 2 te le sei presi tu grazie ti ringrazio molto del contributo che mi hai dato insomma è un po' una trappola ed è purtroppo percepita sistematicamente in questo modo no? cioè percepita sistematicamente in questo modo dobbiamo necessariamente scrollarci di dosso questo tipo di collegamento tra consulente che crea performance se è un pezzo se la prende lui e se la prende pure quando non la crea che suona malissimo no? effettivamente eppure lo sapete perfettamente il lavoro è il lavoro che fate è un lavoro che va al di là di questo come riusciamo a scrollarci di dosso questa questa questo meccanismo è l'unico modo per scrollarsi di dosso questo meccanismo è avere il coraggio di fare per di fare di farsi pagare in modo diverso poi io non so contrattualmente io questo ovviamente non non entro in questo in questo in questo ginepraio so che ci sono molte società che cominciano a pensare a contratti di consulenza a pagamento eccetera eccetera però il tema non è questo il tema è quello della percezione no? quindi la percezione è guarda che questi sono servizi che sono indispensabili per te sono indispensabili e sono costosi perché hanno valore e siccome hanno valore sono costosi il meccanismo è semplice questo ma qual è il vantaggio che ha questa 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 tipologia di approccio? che allontana la remunerazione dalla performance è proprio l'allontana quindi tu cominci a dire guarda che io valgo per cose che non che non riguardano la performance del portafoglio ma per cose che riguardano altri aspetti non non hai questi servizi peccato sono costosi ma te li puoi permettere cioè no questo è il ragionamento il ragionamento è non vergognarsi fra virgolette del fatto a parte l'aspetto contrattuale eh io dico immaginiamo di essere una situazione in cui e so che ci sono situazioni di questo tipo in cui questa super consulenza di fatto prevede una fee il pagamento ed è bello negoziare su questo magari appunto attraverso contratti che siano fatti bene perché perché allontanano questo allontanano la la performance dalla la la remunerazione dalla performance o dal prodotto il prodotto non c'entra più niente no è chiaro che da questo punto di vista quando vedo sui giornali determinate cose e mi dispiace perché what you see is all there is no quello che vedi è tutto quello che c'è e se io faccio vedere determinate cose al cliente cliente questo capisce cioè non è che possiamo pretendere che lui capite qual è il meccanismo che noi chiediamo al cliente caro cliente io vengo pagato dai prodotti però il servizio che ti faccio devi valutare non quanto spendi sui prodotti ma è un perché è un percorso mica mica semplice cioè non è banalissima sta cosa qua cioè in sostanza io comincio ad applicarlo questo criterio allora guardo un consulente dico bene quante volte ti ho visto durante l'anno ti ho visto una volta quante commissioni ho pagato indirettamente ho pagato indirettamente duemila euro alla faccia questo è il ragionamento cioè faccio un ragionamento che però richiede un percorso che è strano no scusa ma perché se quello che conta il tuo servizio io devo ti do dei soldi attraverso il prodotto è un meccanismo di percezione molto secondo me è molto complicato ed è scivola scivola rapidamente verso il ammazza quanti soldi ti do che in realtà non non ha nulla a che a che vedere con con il servizio che viene che viene prestato quindi secondo me bisognerebbe proprio staccarlo e provare a negoziare di fii che nulla hanno a che vedere con il prodotto secondo me sarebbe molto educativo voi dite però poi noi manteniamo on top non tutte quelle cose io non so come funziona un top facciamo quello che volete l'importante è che noi parliamo di fii che non sono collegate alla al prodotto questo è il punto dobbiamo parlare di fii che non sono collegate alla vendita di un prodotto se vogliamo usare questo termine così brutto che faccio fatica pure a utilizzare perché non ho al collocamento se volete ma anche questo è brutto cioè non non è molto la percezione del valore aggiunto qui è no cioè perché se tu metti sul piatto della bilancia il valore aggiunto a quel punto il costo si giustifica da solo se riesci a mettere sul piatto della bilancia riesci a far percepire se riesci a far percepire e qui probabilmente così come noi abbiamo decine di centinaia di pagine di materiale sulle performance dei fondi come hanno fatto i fondi nel 2008 eccetera e abbiamo tanta roba su questo abbiamo tanta roba no se voi volete prendere un vostro campione che costa il 5 per cento l'anno e volete dimostrare che sono spesi secondo me avete tutti i tutti gli elementi per poter mettere sul piatto questo questo valore e allora bisognerebbe pensare a situazioni ovviamente situazioni dove i nomi e i cognomi spariscono ma esempi cioè performance virgolette cioè di attività olistica del tipo che abbiamo detto che hanno dato risultati ripeto è come quello che ha fatto la maratona cioè il nostro personal trend ci dice adesso ti faccio vedere col metodo e con la disciplina che risultati noi possiamo ottenere no e questo è un esempio questo il signor Rossi ovviamente nome inventato che ha cominciato tre anni fa ha fatto questo tipo di cosa e eccolo guarda e ti faccio vedere la foto del signor Rossi che taglia il traguardo della maratona ecco il mio lavoro dice capisci questo è il mio lavoro il mio lavoro è quello di farti tagliare il traguardo della maratona ci va non vinco qual è il tuo obiettivo e beh dice guarda il mio obiettivo è finirla la maratona ecco appunto allora qual è il tempo che farai alla fine della maratona è rilevante ma fino a un certo punto insomma per te chiudere in un tempo ragionevole insomma poi dopo vediamo dipende da tante cose quindi quello che voglio dire è cercare di costruire una casistica di successo che non fa riferimento a dannazione all'andamento dei mercati ma a casistiche di successo che secondo me sono legate a interventi sulla protezione del patrimonio interventi che riguardano l'ottimizzazione fiscale interventi che riguardano il passaggio generazionale interventi che riguardano la protezione quello che vi pare no edito assicurazione ma certo poi dopo senza far cose troppo complicate c'è una tale carenza di assicurazioni per di protezione diciamo nei nostri portafogli che fare esempi di protezione di successo secondo me non è poi così complicato dove il valore si vede no come come piace dire a me l'assicurazione è un è una un investimento a rendimento elevatissimo che non voglio mai vedere certo ora scoprirò tra poco quanta diaria prenderò per un ricovero di 20 giorni ma francamente ma dovessi proprio dire non me ne frega un accidente non me ne sarebbe fregato un accidente ecco scoprirò che mi danno la diaria capito bella soddisfazione no proprio una soddisfazione grandissima però d'altra parte a 20 giorni e non ha neanche la diaria alla fine quindi è una ex ante ed è quello che a me piace vedere ex ante è un investimento ad altissimo rendimento che non vorrò mai vedere ecco francamente esatto no eh vediamo se ci sono domande se avete domande eh allora vediamo un po' perché io dopo ho perso il filo qua perché non avendo i miei computer non riesco a guardare la chat perché Daniele è con un portatile a 70 computer in studio e lavoriamo in un portatile in due magari un Mac no eh certo ed è ovvio certo è ovvio questo è ovvio eh vediamo eh dunque aspetta eh ecco eh c'è una domanda interessante di Gianluca Bocchi che ci dice eh è vero quello che eh che abbiamo detto fino adesso è condivisibile però ad esempio esistono strutture nel nella fattispecie cita Banca Mediolanum che presenta spesso i costi più elevati del sistema eppure la raccolta è sempre importante se non straordinaria il modello così messo non pare in crisi ecco che cosa ne pensi Ruggero? Eh penso che i miei i miei amici di Banca Mediolanum siano molto bravi perché evidentemente fanno percepire valore esatto cioè voglio dire ragazzi eh scusate ma se l'Audi mi 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 fa pagare una macchina eh 95 mila euro per dire non non voglio spenderli eh ma temo che quindi siano cioè e sono bravi cioè nel senso che poi alla fine tu hai percepito valore tu dici no no è proprio il valore c'è sì cioè capite dai su non scherziamo il tema è naturalmente quello della percezione quindi se è vero quello che ci siamo detti vuol dire che si percepisce valore c'è una segmentazione fatta con intelligenza c'è un modo intelligente di porsi ed evidentemente nonostante questi costi no che vengono però l'altro giorno sul giornale c'era c'era mi ricordo è uscito una roba che confrontava fine eco con generali con cioè quelli so i costi so poi c'era chi prendeva di meno che prendeva di più ma è proprio sbagliato il contesto perché quando io penso a fine eco e lì mi mettono i prodotti con quanto ma io devo pensare la persona con chi no cioè ma questo signore gli vale o no allora io non mi permetto di dire assolutamente non mi permetterai mai di dire che un consulente di banca Mediolanum non vale i soldi che 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 il cliente gli dà ma non me lo permetterei assolutamente no poi se qualcuno me lo può dimostrare forse non lo so certo è che se il cliente percepisce valore allora voi ditemi questo vuol dire che il modello non è in crisi e no attenzione non è in crisi il modello del valore il tema è far percepire valore se riesce a far percepire valore il modello non è in crisi sono d'accordo con voi però è molto difficile farlo percepire faccio una ti vediamo se Daniele mi recupera il la domanda ecco la cosa no eccola qua eccola scendi 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 un po scendi eccola qua quindi il punto non è il costo del servizio ma in realtà il valore che noi riusciamo a far percepire i clienti è questa nel modo più assoluto non c'è dubbio su questo non c'è alcun dubbio c'è proprio non c'è alcun dubbio e tu vai su un albergo a 5 stelle proprio così mille euro la notte è proprio così ma noi siamo così abituati a ragionare in termini quantitativi il due e mezzo il tre e mezzo noi stessi che abbiamo una specie di coda di paglia capito e alle volte la noti questa coda di paglia come se ci fosse qualche ma quale problema c'è cioè ma ci mancherebbe altro ma perché io sto a guardare quanto quanto costi io guardo quanto vali questo è un po il il ragionamento no il io faccio sempre racconto sempre l'aneddoto del personal trainer che mi aveva chiesto di più di quello precedente cioè capite e qual è il punto il punto è dimostrare o credere nel fatto che tu vali di più e se vali di più costi di più è banale no cioè non è che sia una roba quando prendiamo purtroppo bisogna fare questi esempi in questo periodo mi scoccio un po però è vero quando prendiamo nel cup la cosa 150 la 250 250 fai vedere direttore del centro di 250 quell'altro è dirigente medico 150 quell'altro dirigente medico 120 tu ce ne fai 250 soprattutto se hai qualche problema certo esatto oggi ho provato tastato con mano eh 250 250 dipende dalla zona d'italia in cui sei però in certe zone 250 è normale prima visita 250 la seconda 220 cioè cioè la seconda costa meno 220 alla faccia dire sei la seconda però a parte le battute è proprio questo il tema il tema è concentrare tutto il nostro sforzo la nostra attenzione sul valore che diamo ed essere veramente convincenti sul fatto che diamo valore e tutte le volte che ci viene portato l'esempio dei costi eccetera eccetera ci dobbiamo offendere questo ragionamento cioè sarebbe come andare a medico certo che lei costa caro è bene stai attento adesso ti faccio una cosa che è successa a me proprio in ufficio stai attento arriva un cliente cliente storico per cui cliente che come va dal notaio abbiamo fatto il mutuo cioè tutto tutto quello che si può fare arriva in ufficio mi dice scusa ma tu di portafoglio hai sempre tuoi 75 milioni per sì perché siamo lì 70 stai attivo sai qualcuno va via con una riva eccetera e a e quanto hai fatto di di denuncia dei reti l'anno scorso oddio mauri ma siamo maurizio e posso dirlo non è un problema io prendo 270 280 mila tira fuori da una borsa un documento sottolineato 50 volte e mi dice a perché io in realtà eh guarda qui era il documento mi feed e poi mi ha lanciato un'altra domanda mi dice scusa ma il milione e tre che manca qua chi l'ha preso perché lui dice se io ho se tu hai 75 milioni il costo mio è stato due punti percentuali un milione e mezzo io ne prendo 280 l'altro un milione e tre chi l'ha preso e ci sta la logica eh ci sta chiaro che non ne trovi tanto così però il fatto che arrivi con tutta la mifi 2 sottolineata e dica vabbè ma se tu ne hai presi 300 mettiamo l'altro milione e tre chi lo prende e non è facile da far capire al cliente non è facile sono sono senz'altro d'accordo chiedi un aumento questo mi sembra chiaro perché sarebbe opportuno chiedere un aumento visto d'accordo sto scherzando allora secondo me si potrebbe chiedere un aumento però ora parte a parte le battute questo è proprio un esempio di cui della trappola che che sta dietro questo tipo di di cosa lo so che voi siete lì a a dire quanto prende da una parte quanto si prende da quell'altra ma io cliente finale devo essere onesto non è che della cosa mi interessa più di tanto eh cioè io pago quella cifra lì cioè sarebbe come dire del dell'audi che pago quanto va alla fabbrica quanto va a quello che ha prodotto il non sono non è un dato il valore dice non c'è una logica capisci beh no è il fatto è questo è sul quale voglio essere provocatorio evidentemente c'è valore in quella parte che non hai messo in tasca ora di detto no perché se tu mi dici guarda eh beh io ho preso quello il resto eh capite chiaramente mi sto dando una zappata sui piedi che non è proprio elegante elegante considerando che io quello pago e allora è l'industria che genera valore quale sia poi la ripartizione all'interno dell'industria dei vari valori beh non sono certamente fatti del cliente no questo è il ragionamento certo che se io sottolineo il fatto che di quello che prendo la fetta maggiore se la prende qualcuno che sta che sta lassù beh allora questo qualcuno che sta lassù a voi genera valore o no? Perché la domanda io poi la ribalto in questo modo se non genera valore è un bel problema capito? Però se genera valore dice caro cliente guarda che il valore che genero io è un valore che genero io che si somma una catena del valore che parte da più lontano d'altra parte è così cioè i duecentocinquanta euro del del nostro del nostro eh del nostro medico ovviamente sono duecentocinquanta a parte va all'ospedale d'accordo eh però capito cioè voglio dire non è che quello mi dice guarda che di questi duecentocinquanta mica le prendo tutti io chiaro cioè non mi dice anche perché l'ambiente in cui è fondamentale cioè ti ha fatto una domanda a questo proposito perché prima dicevano la MIFI 3 potrebbe scalfire il sistema odierno cioè potrebbe eh in potenza avere gli strumenti per cambiare le regole del gioco e diciamo così almeno se raccolgo bene la 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 provocazione della domanda eh può in qualche maniera eh mettere in dubbio le logiche del sistema attuale l'hai interpretata perfettamente la domanda Gabriele grazie la risposta la risposta è sì eh perché noi andiamo inevitabilmente in quella direzione io credo proprio di sì cioè la la mia risposta è sì se non ci prepariamo guardate che questo è un tema di sostenibilità della professione no? Ed è proprio ed è proprio questo il tè ma non solo della professione dell'industria perché è chiaro che se noi togliamo valore alla a ai JP Morgan però loro come si diceva già altre volte loro sono già pronti no? C'hanno la linea del TF la linea di quella di quell'altro come va cadono in piedi non è che però a parte questo che chiaramente eh non sono non sono nati ieri però il tema è proprio questo no? Cioè quello che io penso è che noi facciamo male a ragionare come se ci fosse una sola soluzione d'altra parte se guardiamo all'estero è vero che è vero questo vengono tanti modelli di business rimangono in vita perché non siamo tutti uguali e quindi se non essendo tutti uguali non siamo tutti quelli della della super consulenza quello che dico è che la super consulenza va data a tutti quelli che la cercano è un peccato perché questo così si perdono opportunità quindi è un tema di segmentazione anche qui io sono convinto che ci siano eh che ci sia un futuro enorme per il consulente che usa gli etf però poi ci sarà qualcuno che va a cercare invece i campioni e sono i campioni sono i gestori di portafoglio che danno valore che poi dice ma nella media non aggiungono valore ma il mio non è quello medio il mio è uno bravo capito che è che è la realtà eh di di fatto quindi secondo me non è che c'è un modello unico vincente per forza bisogna rendersi conto però che non c'è un solo modello ecco al momento noi qui abbiamo tendenzialmente un solo modello e chi prova a fare qualcosa di diverso sono mosche bianche che fanno fatica ad affermarsi no da soli tant'è vero che appunto di un diciamo così di un cambio di passo anche in quel contesto oltre che non nella professione anche il sistema nel modo in cui la remunerazione viene gestita questo è un dato di fatto oggettivo è oggettivo secondo me è oggettivo qua siamo pronti a qualcuno che lancerà un modello di business diverso eh che non necessariamente eh Daniele che ha il contratto dovevo firmare stasera non c'era questo il problema allora abbiamo già trovato la soluzione no ma però è chiaro che il tema è un po' questo però eh a me alla fine non sono mica convinto e non credo e non mi interessa che il cliente risparmi il cliente deve avere di più sì d'accordo questo è il punto abbiamo risolto il problema cioè se oggi le persone pensano che alcuni pensano che non ci sia valore nell'industria e questo è il problema se il valore se c'è valore in industria si guadagna di più non di meno di prima e quindi è chiaro è chiaro Lugero senti eh qua ci chiedono il documento che hai citato per quanto riguarda eh l'ISG eh il documento che hai citato prima cioè del fatto che cosa rischia il cliente se non investe in strumenti ISG qual è il documento da cui loro potrebbero o i presenti chiedono come potrebbero attingere a quel documento dunque dunque è il regolamento e ora lo vado a cercare dai se avete un momento perché se no se no vi dico una cosa inesatta è il regolamento UE adesso ve lo vado a cercare se no lo postiamo noi non c'è problema lo postiamo noi se lo postiamo su innoviamo la finanza con passione così ah va bene sì sì ma dico al quattordici mi ricordo il quattordicesimo considerando del regolamento eh certo e adesso ve lo dico insomma oppure lo mettiamo dopo su innoviamo la finanza con passione va bene ok siamo alle sette e mezza mi spiace non essere riuscito a far parlare le persone con le mani alzate eh però eh 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 lo so sono un chiacchierone è tutta colpa mia eh 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 sì comunque il webinar è registrato Annalisa quindi eh lo metteremo sul sito Open Finance eh past events quindi lo potete trovare è il praticamente nella pagina dove vi siete registrati per poter vedere vedere l'evento c'è Massimo Scolari l'abbiamo beccato Massimo non so se mi vedete volevo soltanto salutarvi no non stai vediamo però ti sentiamo ho seguito tutto il vostro webinar volevo appunto ringraziarvi salutarvi Daniele, Ruggero insomma tutti presenti tra l'altro anche come informazione di servizio il regolamento di cui parlavate è l'SFDR cioè il regolamento sulla trasparenza dei servizi di investimento in materia di sostenibilità che è un regolamento approvato a fine 2019 che è entrato in vigore nel 2021 il 2088 giusto? esatto il 2088 del 2019 che è molto importante poi volevo segnalare il fatto proprio di che interessa molto ai consulenti finanziari e anche il fatto che nel mese di agosto cosa che probabilmente sarà sfuggita un po' in generale è stata modificata la MIFID 2 introducendo l'obbligo di rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti all'interno del questionario MIFID e quindi va a sostegno di quello che diceva appunto Ruggero nel suo intervento cioè il fatto che i consulenti finanziari sono chiamati attivamente a occuparsi diciamo e a rilevare le preferenze in materia di sostenibilità dei clienti e quindi sicuramente tutte le società le banche eccetera sono impegnate in questo anno a modificare i questionari proprio per confermo per esempio da noi le hanno già modificato sì anche non sono in grande forma perché ho fatto il vaccino oggi quindi sono un po' anch'io anch'io ho fatto il vaccino stiamo siamo allineati Ruggero la terza dose mi ha dato la carica la terza dose adesso diventa verde attenzione e quindi vabbè insomma ma stavo vedendo ma tu che hai fatto Moderna ma io ho fatto Pfizer sono per la diversificazione di portafoglio e quindi però a parte questo un sacco di cose mi mi veniva voglia di intervenire in tanti discorsi che avete fatto naturalmente e quando qualcuno ha fatto riferimento alla alla revisione della Mifid che cosa sta succedendo anche questo naturalmente se se vorrete fare una puntata su questo argomento volete guarda ti invitiamo Massimo Massimo io do volentieri sul tema sì perché la sto seguendo con molta attenzione e poi vabbè ho anche le mie opinioni ma che sono opinioni personali ma insomma l'importante è dare a tutti le informazioni obiettive su quello che sta avvenendo almeno di quello che si conosce naturalmente di questa materia e sicuramente è un contagio per chi opera in questo settore perché sicuramente le cose che stanno cambiando e cambieranno ecco ok bene grazie Massimo tra un mese lo organizziamo cioè a febbraio lo organizziamo magari ci lo contattiamo prima ovvio ci sentiamo bene ragazzi allora grazie a tutti e buoni investimenti visto che siamo all'inizio dell'anno e ci sentiamo tra 15 giorni con un webinar as usual alterniamo criptovalute e finanza e quindi dopo no si parla di criptovalute Daniele non mi ha detto no no ma forse è bene chiarire è un argomento che vale la pena chiarire fino in fondo quindi anche centomila volte è meglio parlare va bene ci sono parecchi falsi profeti in giro certo va bene comunque stiamo stiamo anche organizzando per so che farà piacere a Daniele un un webinar su criptoassets e consulenza finanziaria ah interessato all'inizio di febbraio con AscoSim adesso si chiama AscoFind scusa dai esatto si comunque lo scopo è quello di fare un po' di chiarezza su quello anche qua su quello che sta avvenendo senza voler naturalmente prendere nessuna parte ma soltanto dare informazioni di natura tecnica ecco certo va bene ragazzi grazie a tutti ci ci sentiamo ricordatevi di iscrivervi a Inoviamo la finanza con passione se ci siete saluto a Ruggero ti saluto io devo andare fino a San Daniele adesso perché mi sono fermato qua per strada per cui ho un'altra fai un po' di strada non tanta dai beh no un pochino ci vediamo tra due giorni ciao Daniele ciao 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 a tutti ciao a tutti buona serata grazie ciao a tutti ciao buona serata ciao ciao